Mario Bravi, Presidente di Ires CGL Umbria, perché no? No perché questa cosiddetta riforma Boschi-Renzi riduce gli spazi di democrazia e sostanzialmente è un peggioramento che rende praticamente impossibile dare spazio e diritti di cittadinanza ai cittadini e noi pensiamo che il no acquisisce un valore importante perché riapre spazi per un cambiamento vero, quindi può sembrare paradossale ma è un fatto reale, il nostro, il mio è quello di un no per il cambiamento.